Put the jacket on and the cabin attenders now are most ready. Fasten the clip in the front, pull the strap to adjust the jacket to your size. Inflate the jacket by pulling the red handles just before leaving the ECA. If necessary, the supply can be to prevent low wind to the rapid tubes. For further information, please check the safety instruction card in the seatbelt in front of you. Thank you for your attention. Per ulteriori informazioni vi raccomandiamo di prendere visione delle norme di sicurezza e riportate sul cardoncino, posto della tasca della poltrona di fronte a voi. Grazie per l'attenzione. Per ulteriori informazioni vi fa i dati możli Grazie a tutti 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 Grazie a tutti